Hai mai sentito parlare di quel DVD che se lo vedi dopo 7 secondi di suicidi? 3, sbruzzone, che non hanno! E' il dialogo per la fortuna! Io con barbara la gusto parlo, perché Barbara... Ehi, 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 dai, ma ogni domenica è così! Pronto? Salve, buongiorno, sono Elisa, la contatto da Vodafone. Oggi abbiamo l'importantissima offerta per lei. Magari puoi chiamare dopo... ...sì.